Con l'arrivo domenica scorsa del campione del mondo Maurizio Fondriest e dei fratelli Maico e Franco Campilongo da Palo Alto, California, è iniziata una settimana per alcuni territori di Calabria e Basilicata ricca di eventi dedicati alla bicicletta, che culminerà domenica 17 giugno con la Gran Fondo Terun Scalea. Sono state molteplici in questi giorni le iniziative dedicate ai numerosissimi iscritti, molti con famiglia a seguito, per festeggiare questa prima edizione della Gran Fondo, che vedrà la città di Scalea punto di partenza e di arrivo e che attraverserà le cittadine di San Nicolarcella, Praia Mare, Lauria, Rivello, Nemoli, Trecchina e Maratea. Un percorso impegnativo per chi gareggia per vincere, ma ricco di panorami mozzafiato e luoghi affascinanti per tutti gli altri partecipanti. Maurizio Fondrist a Scalea per la Gran Fondo Terun Scalea. Come è andata in questi giorni? Abbiamo avuto una settimana stupenda, questi ultimi due giorni il tempo non è stato buonissimo, abbiamo anche preso l'acqua oggi, però sono cose che in bicicletta succedono, ma la costa che abbiamo, che soprattutto questi clienti americani hanno trascorso, hanno visto, abbiamo fatto la strada che porta a Sapri, siamo fermati a Maratea, è stupenda, è veramente bella, con un paesaggio mozzafiato, siamo fermati più volte a fare delle foto perché erano incantati dalla strada. Perché e quando hai deciso di diventare testimonial della Gran Fondo Terun Scalea? Nasce tutto da un incontro dell'anno scorso, io sono testimonial di Manca Mediolano ormai da 15 anni, quindi ogni anno e ogni tappa pedaliamo nel finale della tappa. L'anno scorso eravamo ad Amantea per la partenza della nostra pedalata finale con l'arrivo a Terme Lunigiane, dove vinsi nel 95 e li vedo dei ragazzi con questa maglia blu con la scritta Terun, è così che mi ha colpito, l'ho avvicinato uno che fra l'altro era Rossano e gli ho chiesto ma perché avete Terun scritto sulla maglia? che Terun è il modo dispregiativo con il quale le persone del nord chiamavano la gente del sud che veniva a lavorare e così mi ha spiegato tutta la storia di questi ragazzi che sono partiti da Scalea, sono andati in America, hanno aperto ristoranti, è un ristorante che ha avuto successo e il ristorante si chiama Terun, poi il Terun Day ogni domenica che tutti i ciclisti si ritrovano e così, questa storia io ho detto me la raccontate che la voglio pubblicare perché è una storia che mi ha colpito molto, sapere che ci sono dei ragazzi italiani che sono andati non 30 anni fa che andavano a emigrare, adesso che vanno e riescono ad avere successo, secondo me è un fatto sempre di orgoglio per un italiano sapere che un tuo conterraneo partendo magari da delle difficoltà è riuscito a fare qualcosa di grande e da lì è partito un po' tutto, Franco, Maiko che sono i due fratelli e Giuseppe che è il cugino, così si hanno messi un po' in contatto, mi hanno proposto questa cosa di voler fare una gran fondo, se potevo essere testimonia e così ho detto subito sì, per questo proprio per simpatia per quello che era successo, lì ho conosciuti qua a Scalea e è nata questa veramente, anche amicizia perché abbiamo passato una settimana con queste persone americane, con loro veramente non solamente pedalando ma anche alle cene veramente divertente, si è formato un gruppo molto affiatato e questo è il bello della bicicletta. La bicicletta quando sali in bicicletta ai pedali, abbiamo gente che, insegnanti, persone che fanno i costruttori e medici, abbiamo di tutti i generi, quando sei sulla bicicletta sei tutti uguali, riesci a scambiare opinioni e parlare in maniera diversa da qualsiasi altra cosa e questo è il bello della bicicletta. Un gruppo dicevamo di americani, un bel gruppo nutrito con famiglie a seguito, quindi tante persone che sono venute a visitare, oltre a pedalare, a visitare questa nostra terra. L'importanza del lavoro che dobbiamo fare noi o voi, di quelli che vivono in un territorio che è stupendo, è quello di mantenerlo bene e di farlo vedere all'esterno in una certa maniera, questa è la cosa secondo me più importante, la promozione più importante che noi italiani dobbiamo fare. Sono rimasti incantati dalla costa perché la costa è veramente bella, non ha niente che invidiare ad altri posti e speriamo di portarne degli altri per riuscire magari in futuro, anche in questa zona, a portare del turismo in bicicletta. Cosa fa Maurizio Fondriest nella vita? Da quando ho smesso di correre ho lavorato per la RAI, poi per Sky, quindi in televisione come commentatore, ho il mio marchio di biciclette, è un'azienda di Padova che lo distribuisce e lo produce, mi occupo della promozione, ma la cosa che mi diverte di più è quello del design e di lavorare con gli ingegneri sulla struttura del telaio. Tutte le idee che nascono sulle mie biciclette nascono da me e poi vengono sviluppate dagli ingegneri e dai designer nostri. Ho anche un negozio di biciclette e poi sono testimonial di alcune aziende. La più importante è l'Alpecin. L'Alpecin è un'azienda tedesca, un gruppo tedesco che sponsorizza anche la Catiuscia. E poi faccio il giro d'Italia con Mediolano, faccio il Tour de France per Tissot. Infine seguo con Paolo Alberati che è un ex professionista che vive in Sicilia. Seguiamo un gruppo di corridori professionisti come procuratori. Ecco, tutte queste attività ruotano tutte assieme e si incastrano un po' una con l'altra. Tutto nel mondo della bicicletta. Tutto nel mondo della bicicletta. Sono nato in bicicletta, continuo a fare bicicletta per divertimento e per lavoro. Quest'anno, Giro d'Italia, c'erano anche i ragazzi di Terrun con te? Anche quest'anno mi hanno raggiunto nella tappa che arrivava a Praia Mare. Abbiamo pedalato per 70 chilometri da Paola. Siamo partiti da Paola, passando per Scalea, ci siamo fermati. Penso che anche l'anno prossimo, visto che il Giro dovrebbe tornare in Sicilia, quindi per forza di cose passerà dalla Calabria e quindi li ritroverò nuovamente. Maurizio, quando parli di Terrun, di questi ragazzi, ti si illumina il viso? Sì, perché il Terrun, visto come parola dispregiativa, è bellissimo quello che hanno fatto questi ragazzi che hanno portato questa parola dispregiativa in maniera positiva. Uno dovrebbe essere dire, sono orgoglioso di essere Terrun perché sono riuscito a fare questo. questo marchio dispregiativo che uno magari gli viene dato, sapere che da lì riesce a fare qualcosa è, secondo me, una cosa bellissima. Quindi bisogna essere orgogliosi di dire, sono Terrun. Anch'io sono un po' Terrun.